Ciao a tutti che avete ascoltato il rimetto e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere l'irruzione di aria gelida che ci dovrebbe essere a partire dalla metà del mese. Metà del mese che sembra farsi molto molto interessante perché il vortice polare sembra rimanere fino alla fine del mese molto 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 debole. Ben ritrovati a tutti sul canale, partiamo subito da analizzare vedendo i geopotenziali a 500 HPA. Ebbene come si può vedere l'approfondimento del mio depressione sul nostro paese che comunque andrà di chiamare dell'aria fredda di origine artico-continentale così da portare freddo localmente anche intenso soprattutto sulla nostra penisola ma anche su parte della Francia e della Spagna. Poi dopo l'alta pressione qua che come potete ben vedere andrà un po' a spanciare sulla Scandinavia traslerà molto rapidamente verso l'Atlantico lasciando spazio a nuove incursioni d'aria fredda come potete ben vedere anche da queste immagini. Ebbene potrebbe essere un'irruzione della gelida di portata abbastanza storica negli ultimi anni soprattutto sul centro e nord Europa. Ma come sarà sull'Italia? Ebbene sull'Italia la situazione si fa interessante perché vedo molti di voi che sono scettici ma i modelli non hanno annullato niente. Anzi come potete vedere continuano a portare dell'aria gelida verso l'Italia. E' vero che non arriva il gelo estremo come poteva essere all'inizio ma sicuramente del freddo arriverà. Carissimi, le statistiche di YouTube mi dicono che il 69,2% di voi che guarda tutti i giorni i miei video non è iscritto. Siete tantissimi. Se apprezzate l'impegno e la dedizione che ci porto tutti i giorni per portarvi questi video datemi una mano iscrivendovi al canale e attivando la campanella così da arrivare ai 40.000 iscritti entro la primavera e pensate bene che se tutto il 69% di voi si iscrivesse saremo già molto più di 50.000 iscritti così da aiutare me a portare sempre più informazioni. Vi ringrazio e proseguiamo con il video. Ma andiamo ad analizzare proprio il motivo del perché potrebbe arrivare o potrebbe non arrivare perché per ora ci sono ancora due strade e questo modello di oggi sembra essere una via di mezzo ma andiamo a vedere per i gradi. Partiamo subito vedendo la zona euro atlantica e andiamo a vedere il geopotenziale 500 etto pascal perché? Perché la situazione andrà a determinarsi in base a questa alta pressione se resisterà bene. Allora vabbè qua come si può vedere arriverà, spancerà un pochino poi si trasporterà molto rapidamente verso l'agroellandia e questo può essere una cosa sia positiva che negativa ma andiamo a spiegare il perché. Allora qua come potete vedere con questa risalita lascerebbe lo spazio libero all'arrivo proprio dell'area del vortice polare un po' come nell'85. La conformazione è molto simile ma la posizione di questa alta pressione non è proprio la solita. Perché? Perché per far sì che arrivi l'aria fredda direttamente sulla nostra penisola serve che questa alta pressione si sposti non proprio sulla groellandia quindi andranno troppo verso la zona dell'ovest ma serve che rimangano più est. Quindi come primo fattore servirebbe che questa alta pressione si posizioni all'incirca tra groellandia e scandinava più che tra groellandia e canada. Poi la seconda cosa è che questo blocco riesca a rimanere bello compatto invece vedendo un po' da queste immagini sembra che a lungo andare questo blocco inizia un po' a perdere di potenza. Ma non disperatevi perché comunque rimane il fatto che l'Italia più ombrebbe nel freddo anche intenso. Infatti andiamo a vedere le anomalie delle temperature. Temperature che su gran parte di Europa e anche nel nostro paese sarebbero sotto media fino anche a 10-12 gradi. Ovviamente il gelo come si può vedere quello più intenso rimanerebbe tra Polonia, Bielorussia e Scandinavia. Infatti quale temperature potrebbero raggiungere a 1500 metri la meno 25? Insomma il gelo si sta dirigendo verso l'Italia ma bene o male non si sa ancora la precisione della direzione. Infatti ricordo che questo è un evento che accadrà verso la giornata tra il 15 e il 17 di gennaio. Quindi c'è ancora molto tempo per variare e c'è ancora molto tempo per andarla ad analizzare in maniera più dettagliata. Comunque rimane il fatto che il freddo verso il nostro paese rimarrà e rimarrà anche abbastanza intenso. Infatti come possiamo nuovamente vedere da queste immagini sull'Italia entrerebbe una meno 10, una meno anche 11-12, 1500 metri su tutto il centro nord e poi scivolerebbe verso il centro sud portando del freddo molto molto intenso proprio sul nostro paese. Con nevicate che sicuramente potrebbero essere molto molto abbondanti se avvenisse un'interazione tra Atlantico e questo gelo. Insomma il futuro di questo inverno soprattutto per il mese di gennaio è ancora tutto da scrivere così come è da scrivere anche il freddo sull'Italia perché la cosa si sta facendo molto molto complicata anche per i modelli stessi da andare a analizzare. Infatti i modelli ogni volta propongono sempre scenari un po' diversi. In questo caso danno il freddo direttamente sull'Italia con un blocco Atlantico non proprio perfetto altre volte danno un blocco Atlantico che si va a creare addirittura sull'Inghilterra. Insomma c'è molta molta confusione sicuramente bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per andare a vedere come si evolverà la situazione. Ma insomma le carte regola per far sì che arrivi del gelo vicino l'Italia ma del freddo molto 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 intenso proprio sul nostro paese ci sono. Io vi ringrazio della visione se non l'avete ancora fatto mi evito ad iscrivervi al canale lasciando un mi piace e attivare la campanella prima delle sempre aggiornate con nuovissimi video.